Ecco qua adesso fammi vedere se sei un vero uomo e giocami pike full letality mid lane Va bene amico Ricorda la piamat prima Non è uno scherzo epico Allora Electro Cheap shot Questo Sto pensando di fare ultimate hunter Ultimate hunter dai Un po' di attack speed me lo lascio O forse no no non me lo lascio la culo Andiamo amici Io a terza casta ho trovato 15 giorni What the fuck Eh ma perché Sapete perché ragazzi Non l'avete presa il primo giorno Ecco perché Ciao Ian salve ciao Ciao Manuto Vediamo se riusciamo A grabare qualcuno Mamma mia Mamma mia Mamma mia il grab Mamma mia il grab Baccia cieca Il grab Alla fucking cieca Sono troppo forte Sono troppo fucking forte Mi merito altre mille cheers dopo questa cosa Eh ma che prediction Ma chi me li fa No scope Devo Fatemi la clip ragazzi Ci faccio un meme figo Anzi fate No vabbè Fatemelo voi no Che poi sembra che Vabbè Fatemi un meme no scope Che non esistono più Ormai sono vecchi però Merd kanka saslana Ma che cazzo guardi Si pipe Lo faccio per i soldi E non sto scherzando Lo faccio veramente per i soldi Lo faccio per voi I soldi Fatemi un soffocò No no Quello non ve lo chiederei mai Bisogna sempre mantenere Un rapporto di Nessuno Può fuggire Dalla propria Ehi 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 Oh cazzo Oh cazzo Oh cazzo Ok Chi è stato Marchito Grazie mille di 5 mesi Oh mio dio C'ho la lumaca in testa C'ho la lumaca Di Futurama in testa Dal pianeta Lumacon Come che era No il pianeta lumaca Ha il cervello Giusto Una lumaca al cervello Dal pianeta Lumaca al cervello Hai rotto il cazzo Madonna se è difficile Farmare però Un botto è difficile Farmare Cioè anche per lei In realtà Spero che mi abbiate Fatto la clip Ragazzi Poi ci penso io A fare Oh my god Oh my god Mom get the camera Tutte quelle altre cagate Sentite un po' Ragazzi Ma io mi sento molto Mi sento molto sbarazzino Mi sento molto Incline a un bel gank Livello 3 Che ne dite? Eh vabbè Abbiamo preso un flash Abbiamo preso Uno flash Meglio di nulla Meglio un flash Che un niente Ok gari Qua non c'è Vendo l'esperienza Ok L'importante è che vendo l'esperienza Come niente clip Ragazzi Clippate Ragazzi Fatemi il favore Clippatemi Quella cosa Fighissima Madonna Ci metto due ore A farmarmi Sti 1300 gold Non ce la farò mai Mi sa che darò di nuovo gankare Brava fioca Uuuu Arrivo amico Arrivo Non ho il flash Vai 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 Bye bye Eh Per favore Thanks mate Needed Bet Grazie mille caro Comunque c'ho Un prediction Del look assurdo So much prediction Eh però Il problema Sapete qual è Il problema è Che io non ho 1300 gold E finchè non ce li ho Non posso fare una gazz Mi servono per forza Quei gold ragazzi Vieni qui Ok 1211 Guarda posso Cancare di nuovo Eh rip E' un'unica Rip Rip No non posso neanche andare E' forte Ma quindi Adesso che sto nel fatto No No Gli hanno buffato un po' di cose Ma Da una lean phase Molto debole Però Oh Se sei bravo a farmare Non è che fa schifo Eh per carità Però Io preferisco Alve Onestamente Ok Abbiamo una Tiamat Ah We've got the Tiamat E ora Almeno Sarà Più facile far male Fai Che tanto si è la mumbo O la faccia della Q Minchia veramente Sapete cosa stavo pensando? Stavo pensando Stavo pensando Non mi ricordo Non me ne ricordo Almeno io Cosa stavo pensando Fiora Stavoendo a me L'ha guardato L'amico Ha guardato Eh mate Ha guardato Ma c'è anche Evelyn Poi Sei un po' pazzo Secondo me Sei pazzo Tutti i grab del game Sono sulla Q È vero È vero È vero Sarà una coincidenza Coincidenze Ma scusatemi ragazzi Come è successa Questa cosa Mi spiegate Perché non l'ho stunnata Qualcuno mi spiega Perché non l'ho stunnata Beh vabbè Lei ha fatto il livello Il livello 6 Proprio mentre io Le sono andate addosso Come ho fatto A non stunnarla Ma ma pensavo Io pensavo Ad averla presa Con la Eve Vabbè Non fa niente Un piccolo Errore di percorso E ho pure A meno male Che non ho ultato Meno male Che non ho ultato Però C'è il lato positivo Lei ora Lei ora Non ha più La ultimate Ok Si lo so che non funziona Ma è solamente Per far così Era solamente Per avvicinarmi In mezzo E E clinare Più velocemente Minchia pure con la tia Ma te è un bordel Però Uffa Che noia Porca Porca No ti prendo Bastardo Wow Fammi recuperare vita Amico Ok No Ho sbagliato Vabbè Fa niente Ti muore Muore Igualmente Forse Ho cliccato Ho cliccato Per sbaglio La La Q Invece di Tenere la premuta My bad E poi Io non ho sbagliato La R Che palle Che noia Sbagliare la R Nautilus Piliate il cannone Mi qua Mi qua Il cannone Nautilus Beh Piliate Ecco Thanks lol Ok Arriva Fiora Va bene Ha ultato Mi va bene Che abbia ultato Mi va bene Che abbia ultato Perché se riesco A prenderla dopo Dovrebbe morire C'è Eppure Tu puoi immaginarlo Mi ci fosse Eppure Eccola qua Guardala un po' Sei seria? Ok È iper rischioso Eh Ma vabbè raga Però Posso Sfigato Quanto posso Essere Sfigato A una Mille Uffa Cattata Nella capsula Non è ancora aperta Ok È arrivato il momento Di romare È arrivato il momento Di romare Fare come tutti I pike mid Romo Prendo kill A caso E vaffanculo Lo so Lo so Ma Non riuscivo A A farle Cioè Non riuscivo A tirarle via Quel po' Di anno Che mi mancava Purtroppo Da Nessuno Può fuggire Bella Franzolini Ragazzi Vedi Quattro mesi Caro Bentornato Sono un elfo Sono un magico Elfo Fatato Sono un magico Elfo Fatato Ok Ora posso andare Ora posso andare A romare Quanto culano Sono voluti 104 Pensavo di meno Ok Vito via la pink Perfetto Oh Vediamo di fare qualcosa Giù Ora ce la devo fare Oh Finally Finalmente Ho fatto qualcosa Finalmente Ho fatto qualcosa Ho preso anche Le stack Di Di torre Aspetta Non volevo Sprecarle No Ok Non volevo Sprecarle Odio Sprecare le cose Odio Sprecare le cose Potrei fare Entrambi Eh ma è morto Subito Lucian È esploso È scoppiato Come un palloncino Ad una festa Di compleanno Ai 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 Questi mi fottono La mid Ragazzi Questi mi fanno fuori La mid lane Fa ridere che si fa L'assist da solo Vero Nella serie Meglio Soli Che me Le accompagnate Total goal Granted 549 Minchia Mica Vale Ok Ciao Mumu Ok 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 Andiamo top lane Andiamo ancora la ultimate Ma abbiamo tutto il resto Questo qua Questo qua Arriva coso Mamma mia Allora Io faccio delle cose da dio Ok Faccio delle cose da dio E poi E poi muoio Marco tu Faccio dei predict Della madonna E poi sbaglio le cose più elementari Ma com'è possibile Che funzioni in questo modo Ma com'è possibile Che funzioni Vabbè Non lo so Rega Non lo so Sì Infatti Cioè Borda Caputana È assurdo Cioè Mi prendo per il culo Da solo Praticamente Mi prendo per il culo Da solo Ho dovuto fare Entrambe le summoner Perché ho sbagliato Mi Esatto Esattamente È lì Esattamente Bravo Beh posso fare qualcosa Anche io No eh Io mi rubo questo Posso rubarlo? Secondo me no Oh forse sì Ok Beh lei la R l'ha usata E lo so Oh Finally Ho fatto una cazzo di kill gratis Alleluia Ma Ma mi do soldi da solo? Ma mi do soldi da solo? Vabbè ma siete seri? No vabbè Cioè Ma quanto ho guadagnato con una kill? 1000 gold? Ecco questo è un po' broken Questo è un pelo rotto Pyke l'unico uomo che si dà gli assist da solo Non è un po' troppo esagerata questa storia? Cioè Non è un pelo esagerata? Ma è un botto di soldi Pyke direttore di banca Nuova skin Altro che progetto Pyke banchiere Non uso la R Boom Non so se mi sono andato Ah ma Ah va bene Maledetto flash Uccide quel gatto di merda Scappate 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 amici Wow E le città di scappare? No non scappa Oddio Ah peccato Era troppo veloce Aria è recidio Sì sì L'elcd aria è un po' ridicolo Aspettate che accendo la luce Che si vede un cazzo qua in camera Aspettate Come cazzo? No un attimo C'ho la luce mezza monca Un attimo raga Un attimo Ok C'ho la La lampada Dammi la lampada Dammi una mano Prima la lampada Dammi una mano La lampada Vabbè ho capito Troppo bravo Guardate Guardate un live action di Di Aladdin Eh Ve l'ho fatto Oh Ok Allora No thank you Cazzo c'era quel Quel gattino Che girava da solo Ti aiuto io Ecco fatto amica Tutto tuo Sei felice? Sei felice? Sei contento? Eh vabbè Ho capito Non lucky Easy Easy game Comunque Hai visto Tony che figata Essere uno streamer Ti danno soldi Per giocare E vincere lp Ragazzi Abbandonate il vostro lavoro E fate lo streamer Easy soldi Easy soldi Easy lp Le rune Le rune Sono queste qua Mid diff Non ho fatto niente Io in realtà Vabbè Mid diff Poverina Non ho fatto Veramente nulla Ho solo Cliccato r A casa Ciao Haki Si parlava giusto Di soldi Oddio Vabbè Ho cliccato r A casa Ma questo campione Fa le kill A casa Che è peggio Di Katarina Clicchi erro In giro Fai kill Clicchi erro In giro E fai kill Dai amici Vai Ragazzi No Darius Eh addio Addio Darius Eh addio Nautilus Lol Vabbè Io ho 3000 gold Così A caso Totalmente random Full et ality Devo andare Eh andiamo full et ality Completamente full et ality Edge of night Prodere Ci abbi riusciti al gioco Più rotti Io vorrei Vorrei dire Stai lo scolgatto Sì A bì Sì Rolashotte Rolashotte, rolashotte ZNEAKY 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 Hai misplayed Ho fatto un errorino AAAAAA Come fai a vedermi? AIUTO OH MIO DIO TUTTA LA VANDRIA Vabbè ciao sono morto Addio addio amici addio Ho chiesto troppo Ho chiesto troppo Si comunque ho ricaricato metà della mia vita Bello eh Sta un po' giocando gigantale Dai ci sta ci sta Volevo Era buono Era buono Era buono la mia idea no Grabbavo l'uso e multavo il post Ehm in realtà Irdegan dovrebbe Non so perchè non c'è scritto dovrebbe esserci scritto Mi sa che si è impallato Ah no sai perchè non lo scrive Semplicemente perchè Questo qua non è il main Ecco perchè non lo scrive Mi pareva stralla Eh ma che palle eh Non vedo lasciato niente Compro la IOM Eh Mi sa che non compro più niente Ah giusto avevo i gold Ups Thanks GG Eh bavanculo Beh che dire I anini e i anine E' stato un game Soddisfacente Io ho guadagnato lp Mi sono divertito Ho materiale per youtube Ho materiale per I meme Ho guadagnato 10 euro O posto L mesmo Lo Lo